What's up a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima recensione. Ebbene ragazzi, direi di essere stata parecchio fortunata in quest'ultimo periodo perché era da un bel po' che non entravo nelle sale di un cinema invece in queste ultime due settimane più o meno ho avuto la possibilità di andarci già alla bellezza di due volte. Voi sapete quanto io amo il cinema, quanto io amo i film e quindi comunque ragazzi ricordiamoci sempre che l'esperienza in una sala cinematografica è incomparabile per cui se avete anche una minima curiosità nei confronti di un film ragazzi non vi negate appunto la possibilità di andarlo a guardare al cinema perché, perché sì, perché appunto l'esperienza ragazzi in una sala cinematografica è qualcosa comunque di irripetibile tra l'altro non si può comunque emulare in casa e quindi la scorsa volta vi ho recensito Joker Fully Ado un film che appunto mi interessava particolarmente che mi ha creato un pochettino di delusione purtroppo ma ne ho parlato nella recensione e quindi andatela a guardare se siete curiosi quest'oggi ragazzi voglio assolutamente parlarvi di un film animato che è appunto uscito nelle sale da pochi giorni il cui trailer mi aveva, anzi di trailer effettivamente ne ho visti due ma soprattutto il primo ragazzi mi aveva particolarmente incuriosito perché vi dico il primo trailer? perché il primo trailer che è stato mostrato di questo film ragazzi era stato costruito in modo tale da far sembrare che nel film non ci fossero dialoghi ok il che lo rendeva particolarmente interessante ma nonostante questo il trailer mi aveva emozionato tantissimo cioè in quel momento ragazzi io ero lì che guardavo il trailer una volta finito il trailer ci avevo i lucciconi agli occhi Rodrigo mi guarda e mi fa ammizzica se te metti a piange già dal trailer penso di aver detto già abbastanza tutto ragazzi e poi è stato pubblicato un secondo trailer dove invece appunto si vedeva che ci sarebbero stati dialoghi nel film ma questo non mi ha scoraggiato perché? perché ragazzi già dai trailer si capiva che questo sarebbe stato un grande film animato e di che film animato sto parlando ragazzi appunto del robot selvaggio e come potete ben vedere ragazzi non ho aspettato a comprare il libro da cui è tratto perché magari a molti potrebbe essere sfuggita questa cosa il film si è della Dreamworks ma si sono appunto ispirati a questo libro che si intitola appunto il robot selvaggio di Peter Brown che è un autore new yorkese che è diventato nel corso degli anni dopo aver partecipato se non sbaglio a lavori su serie tv animate un illustratore appunto scrittore per bambini principalmente ma vi dico solo già in anticipo ragazzi che una volta uscita dal cinema quindi dopo aver guardato questo film per fortuna nello stesso centro commerciale c'era una libreria non ho voluto aspettare avevo visto che appunto era in vendita questo libro e appena uscita dalla sala sono andata in libreria a comprarlo perché? 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 ragazzi adesso ne parliamo ho già iniziato a leggerlo effettivamente si nota che l'autore scrive pensando più a dei lettori piccoli però questo non è un difetto ragazzi assolutamente anzi comunque il linguaggio è semplice e scorrevole ma comunque efficace quindi sì ho già iniziato a leggerlo perché ero veramente troppo curiosa di vedere come fosse appunto il libro al quale si sono ispirati per fare questo film per vedere un attimino se hanno tagliato delle parti se sono stati costretti a semplificarne delle altre eccetera eccetera e vi devo dire che quello che ho letto fino ad ora ragazzi rispecchia quello che è nel film e è probabile che comunque abbiano dovuto tagliare delle robe perché il film non dura tantissimo dura tipo un'oretta e quaranta però considerate i titoli di coda quindi può essere un'oretta e mezza e trentacinque quindi comunque sempre ragazzi trarre un film da un libro non è facile perché devi decidere quali parti sacrificare o quali parti semplificare quindi sicuramente questo sarà accaduto anche in questo film ma devo dire che per ora il tutto è abbastanza fedele comunque il film ragazzi è stato diretto e scritto da Chris Sanders non è un nome nuovo anzi ha fatto da regista anche per altri film di animazione come Lilo e Stitch come Dragon Trainer i Cruz e ha lavorato come sceneggiatore per altri importantissimi film di animazione tipo La Bella e la Bestia Il Re Leone Aladin cioè ragazzi stiamo parlando quindi di un tizio che sicuramente sa fare quello che fa e infatti l'esperienza di Sanders si vede tutta in questo film questo film ragazzi appunto è un film d'animazione quindi parecchia gente potrebbe pensare che è un film indirizzato principalmente ad un pubblico di piccoli ma sappiamo che nell'ultimo ventennio io credo soprattutto film di animazione ragazzi non siano più solo indirizzati ad un pubblico di piccoli ma anche ad un pubblico di adulti perché perché anche ragazzi un adulto può appunto guardarsi e apprezzare un film di animazione a dispetto di quello che purtroppo tanti adulti di una certa età pensano e quindi pensano che essendo un film d'animazione vale meno perché è un film pensato per bambini che quindi non avrà chissà quali contenuti importanti e quali messaggi importanti e quindi a prescindere li scartano e non se li guardano questo ragazzi secondo me è un errore madornale perché ci si priva della possibilità di guardare film animati come il robot selvaggio che invece hanno davvero tutto sia per quanto riguarda la storia sia per quanto riguarda la profondità dei personaggi sia per quanto riguarda la profondità dei messaggi e delle tematiche affrontate questo film ragazzi ha tutto veramente non gli manca assolutamente nulla è stato scritto divinamente e il modo in cui questo film è stato realizzato ragazzi io credo sia pura poesia davvero a me aveva ispirato tutte queste sensazioni appunto già dalla visione dei soli trailer infatti le mie sensazioni non si sbagliavano perché ragazzi questo film ti cattura secondo me già dai primi momenti anche se vi devo dire sinceramente che nei primi dieci minuti dieci minuti quarto d'ora del film avevo un pochettino di paura mentre stavo guardando il film perché pensavo che insomma si stesse rivelando essere appunto un film un pochettino semplice cioè un film appunto indirizzato davvero solo ad un pubblico di bambini barra ragazzi e quindi per il primo quarto d'ora ho tremato un pochettino mi son detto oddio non è che me so sbagliata pure stavolta e sto film non è quello che sembrava però per fortuna ragazzi dopo tipo il primo quarto d'ora quindi c'è una prima fase nel film cioè si apre veramente un mondo appunto è come se il film avesse bisogno di un attimino per entrare nel vivo per entrare appunto nel vivo ragazzi delle tematiche delle emozioni di tutto il resto è come se ci avesse una sorta di pausa all'inizio ma forse è fatto anche apposta perché deve rendere idea del luogo in cui il robot si ritrova del fatto che sia adesso ne parliamo quindi probabilmente adesso che ci rifletto è fatto anche volutamente così anche perché pure il libro in effetti all'inizio è fatto allo stesso modo quindi probabilmente è stato pensato anche questo quindi non vi spaventate se doveste andarlo a vedere i primi dieci minuti dite me oddio cioè vi fate venire qualche dubbio state tranquilli perché una volta che il film ingrana ragazzi cioè vi si apre una vasta gamma di possibilità e di emozioni il bello di questo film ragazzi è che come giustamente è scritto anche qua dietro il libro dove dice tecnologia e natura possono andare d'accordo una macchina programmata dall'uomo può imparare a provare dei sentimenti e persino ad amare quindi magari a primo impatto il robot selvaggio uno pensa che la tematica principale sia appunto quella del fatto che è un robot che è un robot quindi comunque è programmato per essere un robot quindi per non avere una coscienza per non avere cuore per non avere un'anima quindi per non provare emozioni quindi magari si pensa si riaffronta di nuovo solo questa tematica del fatto che anche le macchine possono sviluppare emozioni perché è chiaro anche già dai trailer ragazzi che è così che va cioè perlomeno te lo fanno intendere e quindi uno superficialmente potrebbe dire la solita tematica del fatto che anche le macchine possono provare emozioni è una tematica ragazzi che comunque viene affrontata in film serie tv veramente da tanti anni ad esempio anche in un altro grandissimo film di animazione anzi viene da pensare altri due grandissimi film di animazione ragazzi il gigante di ferro e wallie che tra l'altro io amo profondamente e questo film in qualche momento mi ha ricordato soprattutto il gigante di ferro e per questo forse che mi sono emozionata così tanto però piccola parentesi cercherò appunto ragazzi di non fare spoiler quindi altra piccola premessa state tranquilli se dovessi voler fare la parte spoiler vi avviso prima di iniziare quindi state sereni quindi il punto è questo questo film parla soltanto di questa tematica ovviamente no ragazzi viene affrontata anche questa tematica io non so se ragazzi in questo periodo stiano cercando di sensibilizzarci in qualche modo a queste macchine abbiamo visto nell'ultimo periodo che Elon Musk ragazzi ha presentato i suoi robot umanoidi chiamiamoli così che possono fare da assistente e quindi non vorrei che si sta affrontando questa tematica un pochettino per sensibilizzare a quello che forse in futuro ragazzi sarà la messa in commercio di queste macchine però a prescindere da tutto in questo film vengono affrontate tante tematiche quella allora fondamentale attorno a cui ruota tutto ragazzi ovviamente è l'amore l'amore però non appunto inteso in chissà che senso perché solitamente quando si parla di amore ragazzi si pensa sempre a una relazione di coppia tra due individui che si innamorano fra di loro no perché ragazzi appunto l'amore può avere moltissime forme il bello è proprio questo io credo molti magari che ne so si vergognano di dire ti amo alla mamma o al papà o che cavolo ne so di solito fra amici fra fratelli sorelle uno non se lo dice ma io credo che non ci sia assolutamente niente di male io a mia madre glielo dico ti amo e lo dico tranquillamente perché perché appunto l'amore è meraviglioso proprio per questo perché è universale ed è scritto anche qua ragazzi una storia di amicizia e di amore universale ed è proprio questo forse che questo film anche vuole fare vuole spiegare ai bambini ma anche agli adulti che esiste un amore universale che comunque ci lega in un modo o nell'altro se vogliamo seguirlo ed è meraviglioso come questo film lo fa ragazzi infatti e lo si vince anche dai trailer si capisce che questo robot ragazzi deve prendersi cura di questo piccolo anatroccolo non vi dirò come lo incontra ma quindi deve prendersi cura di questo piccolo anatroccolo e quindi dargli da mangiare insegnarli a nuotare insegnarli a volare quindi insegnarli ad essere un'anatra principalmente il che sembra assurdo di per sé perché comunque uno dice come fa un robot all'insegnare ad un'anatra a fare queste cose non è programmata in effetti per questo è anche quello ragazzi anche lì che sta il bello di questo film perché questo robot che si fa chiamare Rose deve trovare assolutamente uno scopo quando arriva su quest'isola e inizialmente ragazzi non dico sembra disperata perché appunto un robot non può provare niente ma non capisce non capisce cosa debba fare della sua esistenza ed è bellissimo comunque come si immette all'interno della natura di quest'isola e degli elementi che la abitano perché ovviamente quest'isola è piena di animali tantissimi tipi di animali tutti diversi fra loro tra l'altro ragazzi c'è una caratterizzazione dei personaggi che è spettacolare in questo film e quindi conosce in qualche modo uno dei personaggi secondari ma principali della storia che è la volpe Fink che è un altro personaggio bellissimo secondo me ma tutti i personaggi di questa storia chi più chi meno anche se secondari ragazzi sono secondo me fantastici assolutamente fantastici ognuno con la sua caratteristica con la sua individualità col suo carattere fantastici quindi per ritornare ragazzi a quello che stavamo dicendo deve prendersi cura di questo anatroccolo e quindi si vedrà poi nel corso del tempo cosa succederà e questo per ritornare all'argomento ragazzi dell'amore universale in questo caso dell'amore genitoriale quindi del rapporto che si crea fra Rose e questo anatroccolo è anche una volta cresciuto e quindi è come se lei lo crescesse da madre perché se ne prende cura fin da appena nato ragazzi ed è bellissimo come appunto si sviluppa questo rapporto e quindi capisci che Rose sta sviluppando qualcosa dentro di sé il che è assurdo per un robot ovviamente che non può provare emozioni invece è bellissimo vedere come Rose a contatto con la natura a contatto con tutti questi animali a contatto con questo piccolo anatroccolo che cresce come una madre appunto sviluppi qualcosa di nuovo dentro di sé quindi come se avesse appunto un'anima e questo già è bellissimo ragazzi e quindi si parla di amore genitoriale il che è importante perché comunque spiega in un modo o nell'altro che un amore di tipo genitoriale non nasce necessariamente da un legame di sangue diciamo così quindi uno può essere genitore anche senza essere biologicamente genitore di quel bambino e questa è una cosa importantissima perché spesso ci dimentichiamo che appunto magari non è genitore chi ti fa nascere ma è genitore chi ti ama a tal punto da vederti e farti crescere accompagnarti nel corso della tua vita senza mai abbandonarti e questo è quello che si vede in questo film ed ha un'importanza fondamentale secondo me bello che venga affrontato anche questo tema e inoltre si parla di amore anche in altre forme ovviamente amore legato all'amicizia amore legato alla propria natura ma soprattutto appunto ragazzi all'amicizia l'amicizia che si crea anche fra Rose e Fink un rapporto quello fra loro due bellissimo è che il tutto ragazzi è affrontato appunto con una dolcezza indescrivibile nel senso che ti parlano di certe cose che sono comunque importantissime ma lo fanno con un tatto quasi irreale è veramente poetico questo film io credo che sia il termine forse che più rispecchia la sensazione che ho provato guardando è proprio una poesia cioè poetico dall'inizio alla fine anche in diverse situazioni e il bello che viene affrontato anche un'altra tematica come ad esempio quella della diversità con le altre tematiche come quella anche del bullismo come quella del non sentirsi abbastanza come quella invece del voler credere alla fine in se stessi e nelle proprie capacità quindi c'è una sorta di riscatto la tematica del rispetto reciproco non entro nel dettaglio ma chi ha guardato il film o chi lo guarderà lo capirà quindi del rispetto reciproco nonostante tutto una tematica dell'umanità il che è assurdo perché ovviamente il film ragazzi è costellato soltanto di animali ma ovviamente essendo animali che hanno comunque caratteristiche umane non fisicamente ma caratterialmente hanno voluto trasmettere questo messaggio anche se attraverso degli animali anche perché tra l'altro ragazzi diciamocelo i nostri animali quindi quelli reali a volte sono molto più umani di tanti esseri umani quindi probabilmente c'è anche questo messaggio qua del anche del rispetto per la natura ragazzi del rispetto per le altre forme di vita perché nonostante comunque Rose sia un robot non ha in programmazione la possibilità di fare del male ad altre creature quindi ad altri esseri viventi quindi anche il rispetto della natura degli animali delle altre forme viventi ragazzi che sono importanti tutte a modo loro e sono bellissime tutte a modo loro il messaggio quindi del rispetto reciproco il messaggio di dover essere un pochettino più umani e di doversi venire incontro soprattutto aiutarsi in situazioni di stretta necessità quindi cioè ragazzi c'è talmente tante tematiche questo film e tematiche toccanti si potrebbe starne a parlare per ore e quindi ovviamente immaginerete ragazzi che ci sono dei momenti estremamente toccanti estremamente commoventi e appunto descritti in una maniera tale che davvero è come se fossi lì cioè come se stessi vivendo tu stesso le emozioni dei personaggi e quindi immaginerete che ragazzi io ho pianto tantissimo e ok adesso qualcuno verrà a dire ma gioca tanto tu piangi per la minima cosa ok è vero posso essere d'accordo purtroppo tra molte virgolette io sono una persona estremamente sensibile forse troppo ma ragazzi questo film veramente cioè non è che io abbia pianto per niente capito ma ho pianto e tra l'altro anche Rodrigo perché sono andata a guardarlo con lui si è commosso tantissimo in tanti momenti di questo film e lui non è solito piangere molto facilmente quindi giusto per farvi capire che se ci sono dei momenti emozionanti e commoventi in questo film lo sono per davvero cioè perché capisci cosa insomma stanno provando i personaggi in quel momento e certi momenti ragazzi sono descritti con una tenerezza e con una dolcezza che io non ho visto in film d'animazione da parecchio tempo a questa parte ed è bellissimo tutto cioè ragazzi bellissimo tutto parlando del comparto tecnico questo film è meraviglioso lo si vedeva già dai trailer ragazzi cioè visivamente parlando è uno spettacolo per gli occhi cioè è ovviamente animazione 3d ma sembra come appunto se questa animazione 3d sia stata un po' mischiata l'animazione 2d e visivamente spettacolare ragazzi cioè ci sono certi momenti nella natura che io ci ho sbarrato gli occhi e ho detto non è possibile cioè quanto è bella questa scena quanto è bella questa inquadratura quanto è bella questa idea cioè ragazzi è stato realizzato non so se con tecniche particolari se non sbaglio avevo mezzo visto un video in cui i creatori di questo film dicevano di essersi ispirati anche a certi stili pittorici per fare questo film e si vede ma c'è stata ragazzi cioè si vede proprio che c'è stata una cura pazzesca cioè dalla Dreamworks sinceramente ragazzi non mi aspettavo un lavoro così ben fatto ma non perché gli altri film della Dreamworks non siano ben fatti ma ragazzi la Dreamworks ha fatto film anche come Madagascar per dire non per screditare quel tipo di film che io ho guardato che sì mi piace ma sono film un pochettino più ragazzi faciloni diciamo così e quindi c'è sapendo cosa ha fatto Dreamworks che è stata comunque rivoluzionaria da un certo punto di vista perché la Dreamworks ragazzi è buttata in Shrek ad esempio in anni in cui l'animazione 3D stava appena iniziando e quindi si è avventurata nel mondo dell'animazione 3D però con un film particolarmente adulto perché Shrek non è un film tanto per bambini diciamo così simpatico e tutto il resto ma anche quei film affrontano tematiche comunque importanti per quanto meno intensamente secondo me e più comicamente tra virgolette di come invece viene fatto in questo film quindi questo film ragazzi c'è la Dreamworks si è aperta un mondo secondo me cioè si è aperta un qualcosa che forse non aveva mai osato fare prima di adesso perché ha affrontato una storia del genere con tematiche del genere in un modo del genere e con tecniche del genere in una maniera ragazzi assurda in una maniera pazzesca e quando sono uscita dalla sala ragazzi io una delle prime cose che ho detto a Rodrigo ho ancora gli occhi così ho usato tipo 3-4 fazzoletti in sala quindi ho ancora gli occhi così il naso tutto tappato sto sfraffato e una delle prime cose che ho detto a Rodrigo uno dei film di animazione più belli degli ultimi anni non vorrei sbilanciarmi ma perché magari qualcuno mi potrebbe venire a dire eh mamma mia che esagerata ma sapete che vi dico ragazzi sti cazzi cioè quello che che me possono venire a dire io non dico anzi mi azzardo a dire non solo degli ultimi anni ragazzi ma di sempre so che sembra un'esagerazione ma sto film è qualcosa ragazzi di meraviglioso di pazzesco definirlo definirei capolavoro quasi quasi sì vi dirò ragazzi e voi sapete quanti film d'animazione ho abbia visto ne ho visti tantissime nella mia vita e continuo a guardarli tuttora e per fortuna perché se no mi priverei della possibilità di guardare cose tipo il robot selvaggio che appunto io credo ragazzi che entra a far parte della mia top 5 dei film d'animazione perché io sinceramente ho voglia anche di andarla a riguardare al cinema ragazzi è un'esperienza unica una storia unica tecnicamente bellissimo mi stavo dimenticando per esempio di parlare della colonna sonora di questo film che pure ragazzi è qualcosa di bellissimo veramente bellissimo non ci sono canzoni cantate nel film ce n'è soltanto una tipo in Klaus ragazzi c'è una canzone cantata però come sfondo alle scene che stai guardando è quella canzone ragazzi è catissima tra l'altro per quel momento e per il resto ragazzi appunto non vorrei dilungarmi troppo ma perché già l'ho fatto tra l'altro ma sapete che c'è quando c'è una cosa rega che mi piace e merita comunque di essere lodata io devo lodarla in tutto e per tutto il film tra l'altro è costellato di personaggi come vi dicevo fantastici alcuni simpatici più simpatici di altri altri più sulle loro ma che poi magari li scopri essere diversi è tutto bellissimo ragazzi cioè io penso di non dover di non dover aggiungere altro per quanto riguarda la parte no spoiler andate a guardarlo cioè io non posso che consigliarvi proprio spingendo cioè se fossi lì con voi io vi spingerebbe vi porterei al cinema e vi butterei in sala vi dico ragazzi con tutta la convinzione del mondo che questo film spero davvero con tutto il cuore che sarà candidato agli Oscar e che vinca l'Oscar come miglior film d'animazione purtroppo quest'anno è uscito anche Inside Out 2 che è un bellissimo film perché l'ho guardato ma cioè non mi ha fatto gridare al miracolo al punto da volerci fare una recensione infatti e temo che succederà la stessa cosa ragazzi che è successa quando erano stati candidati Toy Story 4 e Klaus temo e purtroppo quella volta quell'anno vinse Toy Story 4 che rega sinceramente diciamo c'è una cagata pazzesca e meritava Klaus a mani basse ragazzi di vincere però ovviamente Toy Story 4 della Pixar che fai non glielo dai l'Oscar quindi spero che questa volta se il robot selvaggio dovesse essere appunto nominato e ricevere la nomination che non succeda la stessa cosa perché è vero Inside Out 2 è veramente un bellissimo film ragazzi che descrive anche altre tematiche molto importanti e descrive anche egregiamente devo dire quindi è un film che mi è piaciuto non vi sto dicendo che non mi è piaciuto ma dopo aver visto il robot selvaggio ragazzi non c'è storia cioè non c'è partita spero davvero che vinca l'Oscar come miglior film d'animazione perché se lo stramerita e penso di non dover aggiungere altro quindi andatevelo a guardare al cinema assolutamente se vi piacciono i film d'animazione e se vi piacciono le belle storie i bei messaggi andate a guardarlo ragazzi per cui io penso che d'ora in avanti farò qualche spoilerino ma giusto per descrivervi nello specifico magari qualche momento che mi ha particolarmente emozionato qualche personaggio che mi è piaciuto particolarmente quindi io ringrazio veramente di cuore ragazzi chiunque abbia guardato questa recensione come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento se l'avete guardato ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate io vi mando un abbracione un bacione e obdash a tutti i ragazzi da giocherina ciao e qui ragazzi inizia la parte spoiler allora questo film vi ho detto affronta tematiche importantissime come ad esempio quella della diversità e non solo riguardo il piccolo anatroccolo che appunto Rhodes adotta che diventa poi beccolustro viene chiamato così dalla stessa Rhodes che all'inizio lo chiamava con dei numeri e quindi Fisk l'interviene e dice ma è un essere vivente e non puoi chiamarlo con dei numeri e quindi lei elabora questo nome e quindi si dice non dare il nome ma è una cosa che poi dice affezioni ecco e beccolustro una volta che cresce ragazzi lo si vede che è diverso comunque dalle altre anatre non solo perché è stato cresciuto da un robot quindi subentra la diversità anche lì perché lui ovviamente ragazzi ha imparato tutto da Rose che si comporta in un certo modo e quindi lui ha assimilato quei modi di comportarsi e quindi si comporta in maniera un pochettino strana un pochettino anomala e quindi già per questo motivo per il fatto che sia figlio del mostro perché Rose all'inizio ragazzi viene definita un mostro viene bullizzato dalle altre anatre scacciato in malo modo quindi beccolustro non è solo diverso per questo ma è diverso anche perché fisicamente ragazzi beccolustro è più piccolo delle altre anatre quello che anche questo viene detto nel film probabilmente la madre per questioni naturali ragazzi distinto ovviamente non per cattiveria perché ricordiamoci gli animali non agiscono mai per cattiveria quello che appunto come cucciolo ragazzi come piccolo sarebbe stato probabilmente abbandonato dalla madre perché sappiamo che purtroppo a volte questo in natura succede ragazzi le madri abbandonano quelli che sono i cuccioli più fragili e che hanno meno possibilità e probabilità di sopravvivere e quindi beccolustro sicuramente sarebbe stato quel piccolo lì e quindi anche per questo motivo che lui vive male questa diversità ad un certo momento del film questa cosa esplode quindi lui non solo si sente diverso per questo ma poi realizza che Rose appunto non è la sua vera madre e che tra l'altro è stata Rose ragazzi in un incidente ad uccidere la sua famiglia e quindi cioè già lì regà mamma santa quel momento è dolorosissimo perché lui si rende conto di tutto ciò era stato Fink a dire a Rose non dirgli la verità assolutamente perché ci sono certe cose che magari non è il caso uno scopra da piccolo e quindi non gli era stata retta la verità per tutto quel tempo perché lui poi è cresciuto diventato grande quindi quando scopre questa verità regà quel momento è straziante perché lui rinnega Rose come madre e come figura genitoriale nonostante lei lo abbia cresciuto lo abbia cresciuto sviluppando tra l'altro nel corso degli anni un amore incondizionato nei suoi confronti anche questo che è bellissimo ragazzi perché lì poi subentra la tematica del le macchine possono essere in grado di sviluppare emozioni e di avere un'anima stupendo bellissimo dopo che c'è stato quindi questo litigio diciamo così questa separazione in un modo o nell'altro c'è un riavvicinamento tra Rose e Beccolustro che però continua ad avercela con lei per quello che è successo però è bellissimo il fatto che Rose nonostante questo ragazzi nonostante lui ovviamente provi rancore nei suoi confronti e non la chiami più mamma lei comunque gli sta vicino in uno dei momenti più belli secondo me ragazzi della storia vedete mi sto commuovendo già solo a raccontarlo momento in cui lui deve imparare a volare che per un uccello ragazzi ovviamente è fondamentale è lì che subentra anche un'altra figura molto bella che mi è piaciuta tantissimo che è un'anatra che si chiama Collo Lungo se non sbaglio che è a capo della migrazione che dovrà avvenire in autunno e che è l'unica l'unica anatra che vede in Beccolustro qualcosa che è al di là della sua apparenza e della sua fisicità vede al di là esatto e quindi c'è anche questa tematica del non soffermarsi alle apparenze perché magari dietro può esserci un animo gentile un animo buono e questo Collo Lungo lo fa ed è l'unico l'unica anatra che gli dà fiducia e gli dice impara bene a volare che ti porto con me in migrazione e quindi gli dà anche una nuova speranza ragazzi speranza che Beccolustro aveva perso e quindi questo personaggio è di una importanza pazzesca purtroppo non si vede moltissimo nel film ma è importantissimo anche perché tra l'altro poi parla anche con Rose che come vi avevo detto ragazzi inizio film è stata allontanata è stata scacciata da tutti gli animali della natura perché veniva vista come un mostro un qualcosa di innaturale lì sull'isola e Collolungo anche nei suoi confronti fa questo la ringrazia per tutto il lavoro che ha fatto con Beccolustro cosa che magari appunto la natura di per sé non avrebbe permesso per le motivazioni di cui parlavamo prima eppure quel momento è bellissimo perché le dice fa cioè in modo che possa contare comunque su di te ancora insegnali a volare aiutalo e fa sì che il suo addestramento sia più duro di quello degli altri perché essendo più piccolo ragazzi aveva bisogno di essere più forte ed è bellissimo pure quel momento perché Rose nonostante tutto nonostante Beccolustro ce l'abbia con lei fa di tutto per aiutarlo a volare anche andare a parlare con Fulmine che è un uccello ragazzi è un falco pellegrino che tra l'altro è bellissimo e gli chiedono cortesemente lei e Fink di insegnare a Beccolustro a volare e il che è assurdo ragazzi perché il falco pellegrino è l'uccello anzi l'animale più veloce del mondo perché in picchiata può raggiungere i 390 km orari e ho detto tutto e quindi il fatto che un falco pellegrino insegna ad un anatra a volare già lì dici what the fuck perché le anatre ragazzi ovviamente io non credo che siano così tanto abili e veloci nel volo magari sono resistenti ma non veloci e agili come un falco pellegrino e quindi è bellissima questa cosa che Fulmine accetta accetta di insegnare a Beccolustro a volare e gli insegna di tutto anche cose che un anatra non si sognerebbe mai di fare e quindi c'è anche questa tematica bellissima del possiamo anche essere più di quello che siamo e che magari gli altri e la natura vuole che noi siamo questo ovviamente è un messaggio per noi umani chiaramente ed è bellissimo quel momento perché vedi Fulmine che gli insegna a volare a modo suo e quindi Beccolustro diventa anche unico in qualche modo e quindi wow e quindi diventa molto più sicuro di sé impara a volare quindi alla fine migra e c'è questo momento ragazzi in cui mamma mia la migrazione parte che è bellissimo visivamente ragazzi è una cosa spettacolare perché ci sono centinaia di anatre che volano e c'è ti dici wow come cacchio hanno fatto a renderlo così bello questo momento e Beccolustro va via si saluta Rose ma niente più di questo la saluta in maniera fredda principalmente e lei nonostante tutto ragazzi corre dietro la migrazione si aggrappa ad un albero alla fine per vederli volare via e collo lungo si accorge di questo e quindi dice a Beccolustro seguimi e quindi il loro piccolo stormo vola vicino a Rose come ultimo saluto e lei prende una piuma di Beccolustro cioè rega è una cosa fantastica bellissima e ti fa capire quanto appunto una madre possa comunque amare suo figlio fino a che punto nonostante tutto cioè nonostante magari questo figlio non sia riconoscente e sia ingiusto è fantastico poi ragazzi altri momenti mi è piaciuto da morire il momento in cui alla fine ragazzi c'è poi c'è comunque tutta questa lotta interiore in Rose che all'inizio pensa io sono un robot comunque dovrei seguire la mia programmazione e torno alla fabbrica ma poi si lascia seguire dall'amore dalle emozioni e dall'anima e rimane sull'isola e decide di rimanerci anche dopo che Beccolustro è partito nonostante stia per decidere di tornare alla fabbrica perché perché non vuole abbandonare i suoi amici perché bellissimo fra lei e Fink il quale senza di lei si vedeva perso perché anche lui dagli altri animali veniva trattato male veniva allontanato tenuto lontano perché la volpe è sempre vista ragazzi come appunto un animale che ti vuole fregare principalmente un animale negativo anche qui quindi poi ragazzi si sviluppano dei rapporti di amicizia con gli altri animali nel corso del tempo e quindi anche questa tematica della fiducia dell'andare oltre perché alla fine Rose viene accettata principalmente perché gli altri animali si rendono conto che non è un essere malvagio anzi si è presa cura di un altro essere vivente nonostante fosse una macchina quindi cioè ragazzi di che stiamo parlando e quindi alla fine un altro momento che mi è piaciuto moltissimo quando Rose decide di restare sull'isola arriva l'inverno che però purtroppo è più freddo degli altri inverni quindi gli animali che anche sono andati in letargo rischiano di morire ragazzi di morire assiderati c'è questo momento bellissimo in cui lei e Fink vanno a recuperare ogni singolo animale ragazzi dalla tana in cui si era nascosto e lo portano nella loro casa che si erano costruiti ovviamente già questo momento è super commovente perché ci portano ogni tipo di animale ragazzi senza distinzione cioè come se appunto ogni forma di vita fosse terribilmente importante alla fine ci portano anche l'orso che era quello che era stato sempre più burbero ragazzi anzi all'inizio quasi la distrugge Rose ma nonostante tutto lei lo salva lo porta in questa casa e c'è questo momento in cui dentro questa casa tutti gli animali ragazzi si cominciano ad attaccare a vicenda perché ci sono prede predatori comunque animali diversi tutti diversi gli uni dagli altri quindi comincia una convivenza praticamente che sembra impossibile ma poi c'è Fink assieme a Rose che fanno ragazzi questo discorso dicono l'inverno allora se non volete morire è qui che dobbiamo stare cerchiamo di andare d'accordo almeno per i mesi invernali per convivere civilmente qua dentro e il primo animale che dà ragione a Rose è proprio l'orso cioè io ho detto what the fuck cioè non te lo saresti aspettato perché nonostante la sua natura aggressiva la sua natura burbera e collerica diciamo così alla fine sempre per tornare alla tematica del non fermarsi alla facciata dimostra di essere invece un animale comunque sensibile a modo suo che capisce l'importanza del rispettarsi gli uni con gli altri e quindi è il primo animale che dice c'ha ragione dobbiamo convivere civilmente io non farò mai del male a nessuno fin quando saremo qua dentro e crea questo momento bellissimo in cui si stringe ulteriormente questo rapporto di amicizia fra tutti gli animali è ragazzi una roba indescrivibile vi ripeto io in ogni momento ragazzi fazzoletti sfraffamenti c'è una roba allucinante e poi vabbè alla fine ragazzi c'è il momento bellissimo in cui Beccolustro torna dalla migrazione però nel frattempo erano venuti altri robot a recuperare Rose che intanto aveva mandato questo messaggio di richiamo alla fabbrica e quindi si crea anche un momento che non ti aspetteresti perché io non mi aspettavo che alla fine si mettessi anche come si mette ragazzi che arrivano questi robot che cominciano a distruggere tutto perché Rosa alla fine decide di restare sull'isola e quindi pur di prenderla perché ovviamente era un elemento importante per gli umani da studiare perché si erano resi conto che sto robot avesse sviluppato un'anima quindi questi robot che invece sono programmati per distruggere tutto e quindi cominciano ragazzi comincia questa battaglia incredibile fra animali e robot ed è bellissimo vederli combattere tutti insieme e Beccolustro che alla fine regà si rompe anche un'ala pur di cercare di recuperare Rose che era stata messa su questa navicella e alla quale erano stati cancellati tra l'altro i ricordi e c'è questo momento in cui Beccolustro finalmente le si mette sulla spalla come faceva da piccolo e la chiama mamma di nuovo e le dice ti voglio bene cosa che non le aveva mai detto e di cui si era pentito e questo amore quindi risveglia l'anima che si è formata in Rose e quindi lei recupera i suoi ricordi nonostante tutto perché perché i ricordi ragazzi sono legati fondamentalmente sia alla memoria ma anche alle emozioni che sono legate a quei ricordi e quindi questo amore immenso che li lega e li legherà per sempre anche quando alla fine Rose ragazzi farà la sua scelta di tornare alla fabbrica per non mettere in pericolo più l'isola e gli animali i suoi amici animali e viene riprogrammata ma alla fine c'è questa scena bellissima in cui Beccolustro ad ogni immigrazione ragazzi praticamente torna nel luogo dove è Rose la riconosce e la chiama mamma insomma e lei fa intendere per non farsi scoprire dagli altri robot gli fa intendere che lo ha riconosciuto e che continua ad amarlo come prima e come sempre lo amerà è ragazzi una cosa wow cioè che vedevo di io adesso ho saltato sicuramente tanti momenti che sono memorabili e bellissimi in questo film ma questo video è venuto fuori lunghissimo ma erano cose ragazzi di cui sentivo di dovervi parlare che volevo condividere con voi perché appunto voglio sapere da chi già l'ha guardato e quindi ha guardato questa parte spoiler cosa avete provato voi ragazzi in questi momenti quali momenti vi sono piaciuti di più cosa pensate magari avrebbero potuto far meglio o invece se questo film vi è piaciuto da impazzire come è piaciuto a me quindi che dire ragazzi una storia unica che narra di emozioni uniche e affronta tematiche comunque importantissime sì per i piccoli ma anche forse soprattutto per gli adulti vi rinnovo l'invito ad andarlo a guardare questo film merita sicuramente un incasso altissimo e spero a questo punto che la Dreamworks faccia altri film del genere e quindi ragazzi grazie veramente di cuore a tutti voi che avete guardato fino alla fine questa recensione so che ho parlato tantissimo ne sentivo proprio la necessità quindi questa review termina qui io vi mando un abbraccione un bacione e obodash a tutti ragazzi da Giocherina ciao